Ciao grandissimi, oggi andiamo a parlare di un altro argomento riguardante gli innesti, parliamo di portainnesti ma soprattutto andiamo a capire un po' la classificazione e poi quali sono i criteri di scelta appunto di un portainnesto. Come sappiamo i portainnesti sono una parte fondamentale dell'innesto e in base appunto al metodo di propagazione i portainnesti si dividono in due grandi categorie, i portainnesti da seme o chiamati anche franchi oppure i portainnesti clonali. I portainnesti da seme chiamati anche franchi vengono chiamati in questo modo perché non sappiamo bene qual è la genetica che li contraddistingue, quindi non sappiamo quali sono le loro resistenze, come si comportano in certi terreni, al clima eccetera eccetera eccetera. Quindi sono portainnesti dove appunto non sappiamo il comportamento della pianta, quindi abbiamo una difformità di comportamento tra un portainnesto e un altro. Generalmente questi portainnesti da seme hanno una grande rusticità, hanno veramente tanta vigoria e longevità e hanno un buon ancoraggio e un bell'apparato radicale. Quindi secondo me io vi consiglio questo tipo di portainnesto per un frutteto familiare, quindi andate a seminarvi i vostri portainnesti franchi perché secondo me sono la scelta più adatta per un frutteto familiare. Chiaramente se voi dovete andare a fare un impianto è sicuramente meglio andare a cercare dei portainnesti che siano più affini possibile alle cultivar e poi naturalmente anche al terreno, al luogo in cui vi trovate. Quindi i portainnesti franchi secondo me invece sono perfetti per tutti coloro che vogliono appunto avere un frutteto familiare o un frutteto per utilizzo appunto personale e questo tipo di portainnesti secondo me è molto migliore rispetto a quelli colonali per un semplice motivo che avendo questa rusticità e longevità nel tempo vi durano per più anni. Io ho tanti meli di mio nonno che sono stati piantati 50-60 anni fa e sono sempre vivi e vegeti e sono stati piantati semplicemente su portainnesti che erano stati riprodotti dal seme. Quindi vi consiglio sicuramente questo tipo di portainnesto se volete utilizzarlo appunto per un uso vostro proprio di un frutteto. Nell'agrumi però dobbiamo sapere che la riproduzione da seme produce anche piante che sono uguali, identiche e spiccicate alla pianta madre per un semplice motivo, gli agrumi possiedono due embrioni generalmente nei portainnesti molti agrumi hanno la possibilità di avere nello stesso seme più embrioni uno è derivante dall'impollinazione quindi dalla riproduzione sessuale e l'altro invece è dettato da un altro tipo di riproduzione ovvero quella asessuale che appunto genera un embrione nucellare che va a copiare la stessa genetica della pianta madre quindi andando a seminare quel seme lì andando poi a selezionare l'embrione nucellare che è generalmente anche quello più debole dei due andremo a creare un clone perfetto del portainnesto che vogliamo appunto andare a far crescere per poi innestare quindi se vogliamo un arancia amaro andando a seminare i semi d'arancia amaro avremo più embrioni che uno è il frutto dell'impollinazione che può essere tra due aranci amari oppure tra un arancia amaro e un limone per esempio che poi andrà a creare un portainnesto differente rispetto alla pianta madre mentre quello nucellare è proprio un clone identico spiccicato dell'arancia amaro quindi della pianta madre in questo modo noi produciamo tanti portainnesti tutti identici ma partendo appunto dal seme invece che per altri metodi di propagazione che adesso andiamo a vedere e a proposito di altri tipi di propagazione parliamo dei portainnesti clonali che appunto sono ottenuti tramite l'autoradicazione sono portainnesti che vengono selezionati da dei centri di ricerca che appunto seminano tutta una serie di piante e vanno a cercare quelle che sono più resistenti a tanti tipi di condizioni quelli più resistenti che secondo loro sono i migliori poi vengono riprodotti tramite autoradicazione perché non è possibile appunto riprodurli come gli agrumi per seme di conseguenza vanno a creare delle vere e proprie talee della pianta madre andando a creare tanti piccoli portainnesti che sono identici alla pianta madre però rispetto alla pianta madre hanno un grandissimo problema sì ok hanno tutti i vantaggi di essere resistenti a tanti tipi di problemi differenti però hanno il grosso difetto di essere sprovvisti di fittone radicale perché appunto le talee non hanno la possibilità di creare nuove radici fittonanti che vanno molto in basso e vanno alla ricerca di acqua e sostanze nutritive quindi possiamo dire che il portainnesto nato da seme va molto più in profondità e ha un apparato radicale molto più espanso rispetto a quelli prodotti per autoradicazione però quelli prodotti per autoradicazione generalmente vengono inseriti negli impianti quindi non abbiamo questo problema perché comunque negli impianti le piante vengono appunto irrigate e di conseguenza non abbiamo tanti problemi di andare a creare un grandissimo apparato radicale perché l'acqua gli arriva tranquillamente lo stesso quindi diciamo è un problema tra virgolette ecco per noi magari siamo deprivati prendere questo tipo di portainnesti potrebbe essere un problema perché magari pensiamo di poter mettere lì un albero e poi non irrigarlo mentre in realtà se non avete un portainnesto fittonante è sempre necessario irrigare perché altrimenti specialmente adesso che arriveranno stagioni sempre più siccitose è essenziale irrigare altrimenti la pianta non andrà avanti ma andiamo a vedere brevemente quali sono i criteri di scelta di un portainnesto sicuramente il primo punto è quello di andare a cercare un'affinità totale con la marza la migliore affinità possibile ne abbiamo già parlato nello scorso video indispensabile appunto per l'attecchimento il secondo punto è sicuramente l'adattabilità al terreno e al clima sicuramente quando andate a scegliere un portainnesto dovete cercare per esempio io ho gli agrumi ho scelto il poncirio strifogliata perché nel mio territorio dove ci sono venti freddi fa sempre molto freddo un agrume che va più in riposo vegetativo durante l'inverno aiuta sicuramente a far sopravvivere le piante di agrumi in questo clima che ho io qui in Toscana in conseguenza voi dovete fare la stessa cosa dovete scegliere un portainnesto che sia adeguato al vostro clima al vostro terreno a tante situazioni differenti io ho scelto quello per gestire tanti tipi di situazioni differenti l'ultimo punto è quello sicuramente di andare a scegliere se possibile un portainnesto molto resistente alle malattie alle varie avversità climatiche in più molto resistente all'apparato radicale e a tutti i funghi che possono attaccarlo in più a tutti i marciumi del colletto quindi più resistente è il vostro portainnesto e più la cultivar che andrà a crescere sopra sarà sana e forte e quindi niente ragazzi queste erano un po' le basi per scegliere un buon portainnesto spero di essere stato molto chiaro e nel prossimo video andiamo a trattare la scelta delle marze e quali insomma sono i criteri per scegliere una buona marza da poi innestare e noi ragazzi ci vediamo al prossimo video sempre qui su Fustores ciao ragazzi ciao 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 ciao